Buonasera, tra poco Jules Briller e Deborah Kerr in Il Viaggio di Arato Olivac. Il film è sottotitolato per i non udenti alla pagina 777 di Televideo. Alle 23 lo spettacolo Per chi suona la campanella e al termine per Cinema di Notte e Il Club del Martedì il film di Michelangelo Antonioni Il Grido con Alida Valli. Su Rai 1 in diretta dallo studio Nomentana 5 di Roma Fantasticotto. Alle 22 Indio Black sai che ti dico sei un gran figlio di un film di Gianfranco Parolini con Jules Briller. A mezzanotte 25 per Panorama Internazionale il programma Immagini dell'Inverno. Su Rai 3 in diretta dallo studio Nomentana 1 di Roma per la serie Linea Rovente è il turno di Armando Verdiglione, prima parte. Alle 21.40 il film di San Sigil, squadra omicidi, sparate a vista con Richard Whitmark e Henry Fonda. E alle 23.25 è sempre in diretta dallo studio Nomentana 1 di Roma, Linea Rovente, seconda parte. Tra poco trasmetteremo TG2 stasera. Alle 23 andrà in onda la terza puntata dello spettacolo musicale Per chi suona la campanella. Seguirà per Cinema di Notte e Il Club del Martedì il film di Michelangelo Antonioni Il Grido. Va ora in onda la terza puntata dello spettacolo musicale Per chi suona la campanella. Grazie.